Un uomo bello, un uomo che ha sofferto ma che ha avuto anche delle soddisfazioni dalla vita, il fratello, l'amico, il figlio che tutti noi bergamaschi vorremmo. Lui ha fatto vedere prima di morire un qualcosa che credo possa essere di esempio a tutti. Ha tentato tre volte, due volte di rialzarsi, questo è un'ambiente che il caccio di un segno a non mollare mai. Spero che non sia solo retorica. Noi veniamo da Milano, quindi siamo due arbitri di calcio e siamo venuti qua a onorare a un gran calciatore per quello che è successo. Ci dispiace moltissimo perché comunque nel campo di calcio sono cose bruttissime. Mi dispiace tantissimo dalla decisione che ha avuto Pier Mauro e siamo tutti vicini a lui e speriamo che almeno la sorella possa stare con le persone di fianco a noi. Ho sentito proprio il dovere di venire, proprio con dolore ho partecipato. Una bella perdita qua, la ricorderemo a lungo. Mi dispiace proprio per lì, non perché è una cosa proprio troppo emozionante.